Milioni di euro pubblici perduti, onerosi progetti contestati, pareri legali carissimi e inutili, gare non trasparenti fino all'annullamento dell'ascito Carrapa, sfumato nei meandri contabili e in una non programmata palestra da nessuno richiesta, chiesa di nulla. Tuona così il comitato spontaneo di cittadini nato per seguire l'iter finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale del Sud Salento, riguardo il quale il gruppo guidato da Antonio Giannuzzi, garante delle volontà testamentarie della signora Vita Carrapa, che aveva lasciato 3 milioni di euro all'asle di Lecce alla sua morte per costruire il nosocomio, in una nota ufficiale continua a puntare il dito contro la politica, colpevole di aver perso i fondi ministeriali di 142 milioni con la conseguenza di un costo triplicato e un nuovo iter. Riguardo i primi fondi prelevati dall'asle si tratta di una cifra di 877 mila euro, il comitato denuncia come non sia stata data nessuna informazione sul suo utilizzo, nonostante la specifica richiesta salvo poi computarli nel costo complessivo per la realizzazione di una palestra fisioterapica, per la quale si evidenzia la singolarità della procedura per la realizzazione della struttura sanitaria nei locali dismessi del vecchio ospedale, dove gli interventi edilizia vengono oltre il termine ultimo previsto dal testamento, Il comitato quindi ha annunciato di essersi affidato ad un avvocato con il quale si è proceduto alla formalizzazione di un esposto denuncia che è stato inoltrato alla procura della Repubblica di Lecce e al prefetto, allo scopo di portare a conoscenza delle autorità i fatti e le vicende che hanno determinato l'attuale situazione, non solo per tutelare la volontà della concittadina Vita Carrapa, ma anche per verificare la possibilità di eventuali estremi di reato. Diamo fiducia agli organi competenti che vorranno fare chiarezza con la speranza che l'ospedale del Sud Salento diventi una realtà e che i fondi prelevati dall'eredità possano essere utilizzati secondo la volontà della Carrapa nell'interesse generale, conclude il comitato spontaneo, considerato che la defunta mai avrebbe pensato ad una palestra, tanto meno robotica.